Eccolo là! Ah, questo? Pensa, io l'ho sempre usato come sgabello. Mi sedevo qui e facevo i conti. Dai, andiamo. Però Ganimede era meglio. Uh, le comiche! A me fanno impazzire. Ma come? Non ti fanno ridere? No! Ma guarda! Ma guarda lì che cosa gli succede! Hai visto che volo che ha fatto? Ma guarda che botta! E a te non ti fa ridere? Ma mi fa pena. Da che mondo è mondo uno che cade fa ridere. E tu non ridi? Ma si è fatto male, poverino. I principi dell'umorismo sono la botta in testa e la caduta. E tu ti commuovi? Oh! È matematico, l'ha detto pure Chaplin. C'è la buccia di banana, c'è l'uomo ben vestito. Tac! L'uomo deve scivolare sulla banana e deve cadere. E la caduta deve far ridere. E invece tu non ridi. No! Ho capito. Non ti piace? Non ti piacciono le comiche? Non ti piace ridere? A te non ti piace niente? No! Tanti saluti e buonanotte! Ciao! 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 Ti sei fatta male? Sì, molto! Ma che fai? Ridi? E l'hai detto tu che quando uno si fa male si deve ridere? Ti sei fatta molto male, vero? Che si è fatta male... Vieni, vieni che ti aiuto. Fai piano.